Ciao a tutti, rovistando tra le cose, tra i miei bauli di lavori, ho trovato un paio di lavori realizzati con questo tipo di lana, si chiama lana pompon ed è una lana particolare da lavorare, molto bello il risultato finale dei lavori realizzati con questo tipo di lana, però non è semplicissima da lavorare, mi ricordo che quando l'acquistai fortunatamente nel kit che acquistai, che era i primi anni che era uscita questa lana, c'era un fogliolino, ebbi la fortuna di incappare in questa pubblicazione che aveva i gomitoli e il giornalino insieme, che mi insegnò come realizzare il lavoro, poi ovviamente con gli anni e con la pratica sono riuscita a sviluppare delle tecniche differenti che vi mostrerò nei prossimi tutorial, oggi però vi voglio far vedere, ho trovato una sciarpina che avevo fatto, realizzata con il nero, quindi io adesso però ve la faccio vedere realizzata con un filato più chiaro, perché col nero ho paura che non si veda bene, realizzai questa sciarpina semplicemente senza usare nessun tipo di attrezzo, con le mani, come ho fatto? Allora prendiamo la nostra lana pompon, facciamo un nudino, che sia grande quanto il nostro polso, che noi ci possiamo infilare comodamente il nostro polso, facciamo un nudino e fermiamo quindi la lana, in questo modo, la lana, che poi non credo neanche sia proprio lana, penso sia un acrilico, ora guardiamo se c'è, allora, no non c'è scritto, è poliestere sì, è poliestere, quindi inseriamo il nostro anello nella mano sinistra, dopodiché proseguiamo con avvolgere come se stessimo facendo, utilizziamo il nostro braccio come un ferro, quindi facciamo delle maglie, mettiamo sul nostro polso delle maglie in modo che, vedete, formino degli anelli intorno al nostro braccio, come quando facciamo la maglia, no? Normalmente, quindi noi inseriamo, pieghiamo il filo, in questo modo, facciamo un'asola e poi ci inseriamo la nostra mano, la accompagniamo in modo che siano tutti uguali, facciamo passare i pompon se è troppo larga e proseguiamo in questo modo, montiamo sul nostro braccio una decina di maglie, 4, prendo il filo, formo un'asola, così, vedete, e ci infilo la mano, così, prendo il filo, formo un'asola e ci infilo la mano, e accompagno in modo che sotto siano tutti uguali, prendo il filo, formo un'asola e ci infilo la mano, così, ecco, l'unica cosa alla quale dobbiamo stare attenti è che non si accavallino, quindi teniamoli belli distanziati, controlliamo, ecco, io adesso ne ho messe su 6, 7, adesso prendo con la mano e tengo il filo, dell'ultimo anellino che ho montato, tengo il filo, prendo il filo di sopra e lo faccio cadere e inserisco l'anello che mi si è formato nella mano sinistra, faccio la stessa cosa, prendo il filo da sotto a questo punto e faccio passare il filo dalla mano sul filo, prendo il filo e lo inserisco nella mano sinistra, in questo modo, raccolgo il filo da sotto, tiro e accomodo i miei anellini in modo che rimangano, io ora ve lo sto facendo vedere molto largo e perché voglio che si veda bene, spero che si veda bene più che altro, prendo il filo, quello di lavorazione, quello attaccato al gomitolo quindi, lo prendo con la mano destra, prendo un altro anellino, lo faccio passare sopra il filo, dopodiché inserisco la mano sinistra all'interno dell'anellino che mi si forma, prendo il filo di lavorazione e tiro, riprendo il filo, ritengo il filo con la mano destra, faccio passare l'altro anellino e infilo la mano sinistra nell'anello che si forma, riprendo il filo e tiro, dopodiché continuo, tengo il filo attaccato al gomitolo con la mano destra e ci faccio passare sopra l'altro anellino che ho nel braccio e inserisco la mano nel cerchietto appena formato, tiro quindi accomodo i punti, accomodo scusate i fili che ho sulla mano sinistra, tengo il filo sulla mano destra, quello attaccato al gomitolo, prendo un altro anellino dalla mano destra, lo faccio passare attorno al filo, così, mi si forma un anellino e in questo anellino io inserisco la mano sinistra, riprendo il filo di lavorazione, tiro, accomodo il lavoro sulla mano in questo modo e faccio passare l'ultimo, quindi in questo modo e inserisco la mano nell'anellino, a questo punto con la mano sinistra faccio la stessa identica cosa, quindi prendo il filo attaccato al gomitolo, lo tengo con la mano e faccio passare il primo filo, lo faccio cadere, c'è un anellino, si forma un anellino e inserisco la mano destra, riprendo il filo da sotto, quello attaccato sempre al gomitolo e ci faccio passare il filo da sopra, così, inserisco la mano, riprendo il filo, lo accomodo un po', in modo che i pompon vengano vicini, prendo un altro filo dal polso sinistro, lo faccio passare tenendo con le dita il filo attaccato al gomitolo e mi si forma un anellino, inserisco la mano destra all'interno dell'anellino, così, riprendo il filo attaccato al gomitolo e lo tengo tra le dita della mano sinistra, prendo il nuovo anellino dalla mano sinistra e lo faccio cadere giù e inserisco la mano destra all'interno dell'asola appena formata, riprendo il filo con la mano sinistra e faccio cadere un altro punto, inserisco la mano, prendo il filo e lo tiro leggermente, faccio cadere un altro anellino, asolina formata, inserisco la mano, riprendo il filo da sotto, accomodo, faccio cadere un altro anellino, asolina formata, inserisco la mano, riprendo il filo da sotto, riprendo il filo io ce l'ho qui, riprendo il mio anellino da sopra il polso, lo sfilo, lo faccio cadere e inserisco la mano nella nuova asola, stessa cosa per l'ultimo, prendo il filo, prendo l'ultimo anello che ho sul polso, lo faccio passare attraverso il filo e inserisco e proseguite così a lavorare avanti e indietro finché non avrete una misura adatta ad una sciarpa, uno scaldacollo, quello che più vi piace, quindi il primo passaggio dalla mano destra alla mano sinistra, prendete il filo attaccato al gomitolo, lo tenete con indice e pollice, insomma lo tenete con la mano destra, prendete il primo, la prima maglia, chiamiamola maglia perché poi sono maglie e la faccio cadere dalla mano, la lascio proprio andare, vedete mi si forma l'asola, in quest'asola inserisco la mano sinistra, riprendo da sotto il filo attaccato al gomitolo e faccio cadere la seconda maglia, inserisco di nuovo la mano sinistra sull'asola appena formata e proseguo così, è molto veloce, io ora ve lo sto facendo vedere un pochino più lento per farvi capire, ma la lavorazione è veramente molto 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 veloce, inserite la mano, tenete il filo e infilate, tenete il filo, fate passare e infilate, tenete il filo, fate passare e infilate, tenete il filo, fate passare e infilate e proseguite così fino ad avere un discreto numero, una discreta lunghezza di lavorazione, provo a farvelo vedere in lunghezza, spero che si riesca a vedere, vediamo un po', allora, tengo il filo, faccio passare, è una cosa velocissima, così, riparto con la mano destra, il primo passaggio metto, tengo il filato con la mano, faccio passare l'asola e la lascio andare e inserisco la mano nella nuova asolina che mi si è formata, riprendo il filo in questo modo, questa è la lavorazione, non mi ricordo neanche dove la vidi la prima volta, ma mi affascinò talmente tanto, perché è velocissima e si realizzano delle cosine veramente simpatiche, cioè ovviamente sciarpe, scialli, cose così, ovvio che non si può, si possono realizzare anche delle canotte estive, dei copricanotte estivi da mettere con la canottiera sotto punto, perché ovviamente è una rete estremamente larga, vedete, e proseguite così fino a che non avrete raggiunto l'altezza desiderata, continuate a lavorare la vostra maglia, questa è completamente a mano, veramente, senza l'ausilio di nessun ferro, è una lavorazione simpatica, mi piaceva farvela vedere, proseguite, così, e con questo filato viene particolarmente bene, poi si può fare anche con i filati grossi, per esempio io ne ho fatto una, ho fatto una sciarpina, con tutti gli avanzi di cotone, è venuta una sciarpina multicolore, molto simpatica, ecco qui, vedete quanto è veloce come lavorazione, infilate, così, ecco qua è finito il filo fantastico, vabbè, prendo le ultime due maglie, le faccio passare attraverso il filo, poi col filo stesso, rientro all'interno dei punti, così, prendo uno dei fili laterali e fisso con un nodo, con un semplicissimo nodo, così, e ho la mia, vedete, si forma una rete, vedete, si forma una rete a maglia molto larga, però una volta che poi voi unirete, potete anche fare un torsion, così, arrotolando, ecco qua, e il vostro collo è fatto, è carino, ed è una lavorazione veramente semplicissima da fare, bene, il micro tutorial è terminato, spero di avervi dato un'idea per utilizzare questo tipo di filato, nel fare appunto un collo che poi si può applicare a un maglioncino, ed è un filato molto caldo per l'inverno, infatti mia figlia usa i miei vecchi colli, perché ne avevo fatto un po', e li usa lei, perché sono molto, molto caldini, bene, il tutorial è terminato, vi ringrazio per avermi seguito, e ci vediamo al prossimo, ciao ciao! Grazie a tutti!